Musica Martedì 24 gennaio, bentrovati all'appuntamento con l'edicola di TRMH24, lo spazio dedicato alla lettura dei quotidiani, iniziamo dalle prime pagine di Repubblica e Corriere della Sera. Repubblica in primo piano, ci sono le intercettazioni, Meloni frena Nordio il titolo principale, la Premier interviene sul giro di vite, minacciato dalla guarda sigilli e impone lo stop agli scontri con i PM antimafia, slitta il DDL sull'autonomia regionale del ministro Calderoli, i governatori del Sud sul piede di guerra contro il progetto. Rottura tra il governo e i benzinai da stasera lo sciopero di 48 ore. Colloqui con la di Dieni Descalzi vendo l'Italia come hub dell'Unione Europea del gas. Il commento, le ragioni dello stallo e poi di spalla vediamo a vent'anni dalla morte, John Elkan, da mio nonno Gianni Anneglie, la lezione della responsabilità di Ezio Mauro. E poi il reportage, gli ultimi schiavi del Brasile. E' questo il reportage, vediamo in foto appunto Rio de Janeiro, un bambino gioca con i cani nella favela Complexo d'Amarè, una delle più grandi favelas appunto della città. Messina Denaro in taglio basso, in manette il vero Bonafede, l'ombra del boss. Verso il 27 gennaio Segre e la Shoah che rischia di finire nell'oblio. Via i tabù sul parto prendiamoci cura anche delle madri, questo l'articolo sul caso del neonato morto. Proseguiamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo in primo piano gas, 5 accordi anti-Russia, il titolo principale, l'Unione Europea, nuovi aiuti militari a Kiev, l'Avrov, la guerra con l'Occidente è quasi reale. Meloni firma i progetti ad Algeri, Descalzi, Deleni, liberi da Mosca nel 2024. Dalle 19 di oggi, Benzinai in sciopero. Foto notizia e sulle condizioni meteo, c'è l'allerta in 5 regioni, ma il tempo per tutta la settimana, l'Italia sotto la neve, disagi e scuole chiusi. Questa la foto dei frati della Basilica di San Francesco ad Assisi che giocano con la neve. Hanno postato anche un video sui social Segre, la memoria, la gente stufa di ebrei e Shoah, l'amarezza della senatrice nella settimana della memoria. E ancora vediamo di spalla, vent'anni dalla morte di Gianni Agnelli, un ricordo di Agnelli, il monarca repubblicano. In taglio alto, invece, arrestato il geometra Andrea Bonafede, così prestò l'identità a Messina Denaro, l'accusa, associazione mafiosa, ha fornito i documenti e comprato casa per la latitanza del boss. Il covo, la sua voce, mi mise paura, così il traslocatore. E poi intercettazioni, la Premier, non voglio lo scontro. Mentre, in taglio alto, anche una notizia di sport, brutta Inter a San Siro si arrende all'Empoli, spulso anche Skriniar nella sconfitta, ieri sera, dell'Inter contro l'Empoli. Passiamo ad altre notizie, vediamo insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno, Gazzetta di Bari e Gazzetta di Basilicata. Gazzetta del Mezzogiorno, edizione nazionale, Italia in cerca di energia e da stasera fino a giovedì i benzinai sono in sciopero, chiusi anche i self-service. Gli incontri di Miloni ad Algeri, dal Mediterraneo possibile svolta per il gas. CGL Puglia, al Via, due giorni di congresso. Trivelle in Adriatico, team di esperti per il no. Emiliano lancia De Santis, ma nella PD è caso D'Alema. E poi il punto sull'Ilva a Taranto, il futuro va condiviso. E quindi vediamo anche di spalla un altro articolo. Da Bari raccolta di firme contro il decreto Calderoli, questo sulla autonomia con la Lega che tenta lo sprint. Ma la Lombardia non è più locomotiva, stop a decenni di retorica l'analisi di Davanzati. E ancora, strade di sangue sempre più vittime, lutto a Massafra e Martina, morte atroce nel ghetto. È successo a Foggia, coppia di africani stroncata dal monossido. Ennesima tragedia a Borgo Mezzanone. Quindi in taglio basso, un barbiere dal fascino folle e visionario, Petruzzelli in canto per la regia di Livermore. E ancora, l'alcol fa male, non si esageri, è scontro Roma-Europa, la polemica parla l'oncologo lorusso. Passiamo alle notizie locali con la Gazzetta di Bari. Vediamo il titolo principale. Amtab, più sicurezza a bordo dei bus, ex-manifattura, il mercato nel degrado. Persichella, più controlli sui mezzi, anche dei vigili, sporca e faticente la struttura di via Ravanas. Licenza di scippare, bosseggiatori quasi impuniti, l'analisi di Luca Natile. Quindi abbiamo in alto, in taglio alto, fine settimana dedicato ai vaccini 10 ab aperti. Ma per ora Kraken è lontana la nuova variante Covid. Prescritti tutti i reati, adesso è sicuro in via Pappacena niente case abusive. Continuiamo a leggere le altre notizie. In taglio basso vediamo Monopoli, Italian Leather, Will scende in campo subito. Un tavolo sud-est, riserva marina. La Metrulli ci vuole un parco, lezioni di pace. Nelle aule dell'Uniba, gazzetta di Basilicata, titolo principale, autotrasportatori in apnea, più spese, guadagni che sono azzerati. Il caso per ogni mezzo pesante si stimano il sborso anno di 10.300 euro in più tra caro carburante e pedaggi autostradali. Matera, massimi ribassi negli appalti, lavori a rischio e poi di spalla, bene la nuova scuola, ma a 50 metri c'è l'istituto agrario in stato comatoso. Quindi vediamo anche in taglio centrale le altre notizie. Nucleare, Trisaia, Bonifica e smantellamento no al sito unico, ma al tempo Pollino. I carabinieri in aiuto di automobilisti bloccati dalla neve, calcio, il Matera riprende il suo cammino al ritmo play-off. Lettera della conferenza episcopale, bonus gas anche per le parrocchie, l'appello dei vescovi e vincoli per Bardi. Quindi in taglio basso a Potenza, le sedi alle associazioni, il comune sottotiro e fa discutere l'assegnazione senza un bando. Snack Lucano Las Vegas, Cosetta fa l'americana, sempre Potenza, il prodotto dell'impresa didattica del Da Vinci Nitti. Quindi passiamo alle notizie del Corriere del Mezzogiorno e di Repubblica Bari. Corriere del Mezzogiorno, in apertura l'acqua arriverà dall'Albania e Emiliano svela i dettagli dell'opera che risolverà l'emergenza idrica a rama d'accordo e progetto sottomarino di ACUP con sbocco a Taranto. I punti da collegare distano 200 chilometri. All'interno del giornale, no all'autonomia differenziata, su Bronzini esplode l'ira leghista. Il rettore inaugura l'anno accademico e contesta la riforma, ma scatta la polemica. Dall'Albania fino ad Otranto, un acquedotto sottomarino darà più da bere alla Puglia. Il governatore torna alla carica dopo la lettera inviata attraverso la QP. Sarebbe un sogno, ne ho parlato con il premier Rama, che è d'accordo su gli investimenti future, mentre sulle trivelle e battaglie bipartisan, la costa non sarà devastata. Movimento 5 Stelle presenterà una mozione in consiglio. Repubblica Bari, medici sottotiro, questo è il titolo in grande, in prima pagina, su Repubblica Bari e vediamo anche di cosa si tratta l'emergenza in Puglia e Sicilia. Il maggior numero di aggressioni del Presidente Anelli, chiediamo direttive ai vertici ASL, interviene anche il Ministro. L'intervista parla Vito Calabrese, mia moglie Paola Labriola pagò sul lavoro e con la vita, quelle carenze serve anche più personale, all'interno del giornale il reportage, un paese e il suo dolore, tre vite stroncate sulla strada maledetta, oggi funerali a Massafra e Martina, delle tre giovani vittime di questo terribile incidente stradale. Ancora medici aggrediti, un primato amaro e l'emergenza è sul tavolo del Ministro, Puglia e Sicilia, il maggior numero di casi. Il Presidente Anelli, chiediamo direttive ai vertici ASL, fondi per la sicurezza. Passiamo alle altre notizie locali con l'edicola del sud di Bari, quella della Basilicata. Vediamo Bari, lavoro, segnali positivi dal settore dei servizi, bollettino Ampal, Union Camera a gennaio, scenari incoraggianti in aumento offerte e assunzioni e quindi, edicola del sud Basilicata, l'incubo dei cinghiali, applicare la legge 157, uomo ferito nel Potentino, l'appello della Coldiretti e del già assessore Cuparo al governo. Sole 24 ore in chiusura, titolo principale sulle dichiarazioni della Premier Meloni, ecco il piano Mattei per l'Algeria, Bonomi un ponte tra le due economie, geopolitica a vertice con il Presidente Tebun intese su gas, spazio e idrogeno, accordo tra Confindustria e l'Algerina Crea sulla cooperazione nell'industria. E questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Puglia e Basilicata.